Bloccate l'intera area in modo che non possa entrare e uscire nemmeno una mosca. L'operazione per liberare Mariupol è stata un successo. Non c'è prova che Mariupol sia caduta. Знаю che la maggior parte di Mariupol è. La supportazione di tanki, brunetechniche e pichote. Ci sono anche i droni tattici di cui abbiamo parlato. Dovremmo lavorare insieme per mantenere la pace e la stabilità nel mondo. Facciamo tutto quello che possiamo per sostenere la guerra per la libertà. De facto si potrebbe considerare una guerra contro i membri della Nato. La mentalità da guerra fredda potrebbe solo far veragliare la cornice della pace globale. Non sarà più solo l'Ucraina a dover essere denazificata. La guerra si configurerà poi contro l'Europa e il mondo intero. Dobbiamo riflettere bene su cosa fare. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira. Oggi ripartiamo da loro, i veri contendenti della guerra in Ucraina. Joe Biden e Vladimir Putin. Il presidente russo ieri ha annunciato la presa di Mariupol. Curioso annunciare la conquista di una città se nell'acciaieria ci sono ancora sacche di resistenza. Ma c'è qualcosa di più. Che la città di Maria sul Mar da Zov fosse in mano ai russi è una verità che poteva essere annunciata almeno da una settimana. Il presidente degli Stati Uniti Biden invece ieri ha detto che la Russia non riuscirà mai ad occupare l'intera Ucraina. Anche questa è una verità che poteva essere annunciata comodamente già dall'inizio del mese di aprile, quando i russi hanno smobilitato da Kiev. Ma tra la propaganda russa e quella statunitense in mezzo c'è l'Europa. Ci siamo noi. E più passa il tempo e più la nostra vecchia Europa sembra lacerata da questa guerra alle porte di casa. Sia sull'invio delle armi, in particolare quelle pesanti, sia sulle sanzioni, in particolare quelle che riguardano le fonti energetiche, manca una linea comune. Prendiamo quello che ci restituiscono i giornali italiani di oggi. Il capo della nostra diplomazia a Bruxelles, Borrell, a Repubblica, conferma la linea dura. Aiuteremo l'Ucraina a cacciare l'invasore dal paese. Mentre Macron, sul Corriere della Sera, invoca la necessità che sia proprio l'Europa a mettersi a capo di una trattativa per la pace. Posizioni decisamente molto divergenti, che forse affondano su una questione di fondo. Se l'Europa ha deciso di armare Kiev, può oggi proporsi come protagonista di una trattativa senza passare per cobelligerante? Di tutto questo parliamo tra poco con i nostri ospiti. Fatemi salutare subito Claudio Locatelli, che è in Donbass, una notte d'inferno, proprio nel venerdì santo per la chiesa ortodossa. Però, prima di tutto, il benvenuto ai miei ospiti. Un piacere rivedere Tiziana Ferrario, volto del TG1. Buongiorno, ben ritrovata. Ben ritrovato al generale Maurizio Fioravanti, già capo delle Forze Speciali in Italia. Saluto e ringrazio Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it. Prima di arrivare alle analisi, i fatti sul campo. Claudio Locatelli, sembra davvero stata una notte d'inferno per tutto il Donbass. Raccontaci. Sì, esatto. I bombardamenti si sono intensificati e le punte di attacco, dovete immaginare, tre punte d'attacco, colonne di mezzi e artiglieria, che tentano di essere spostate all'interno del Donetsk, dove ci troviamo ora. Io sono a Sloviansk, perché sto verificando l'attacco di due ore fa con delle cluster bomb. Per chi ci sta seguendo sono delle bombe a frammentazione, che sono avvenute ben lontano dai fronti. Infatti al di fuori dei nomi, Sloviansk, Liman, un villaggio dove siamo stati ieri, il punto per chi ci ascolta è che, guardate, questa è una cittadina normale di 100.000 abitanti, quindi non piccola, dove la maggior parte della gente non si trova, i pochissimi che camminano, che vanno a far la spesa o cercano di ritirare i soldi. Io sono in mezzo alla strada e c'è una sola macchina, in pieno centro, e questa è oltre 50 km dal fronte, eppure negli ultime 24 ore anche qua sono caduti appunto colpi. In questo caso cluster bomb, a Liman dove eravamo ieri, mentre eravamo lì hanno iniziato ad attaccare davanti a noi, siamo dovuti tornare indietro. E in diretta, per chi mi segue anche nei canali della mia pagina ufficiale, siamo andati in diretta e mentre parlavamo con delle signore in Lugansk, ricordo che il Donbass è composto da Donetsk e Lugansk, due regioni, mentre eravamo lì un razzo è passato sopra la nostra testa, esplodendo a 10 km, scusate, un missile, a 10 km davanti a noi. Sto trasmettendo questo per far capire a chi ci ascolta come la normalità viene improvvisamente interrotta anche a distanza dei fronti o come nel caso del villaggio di ieri, a solo 10 km dall'artiglieria Pecena. Claudio, quindi confermi quello che noi abbiamo sentito poco fa sulla BBC, sono state colpite zone abitate. Questo significa che la strategia militare della Russia in questo momento è terrorizzare la popolazione civile, non solo colpire obiettivi militari. Sì, c'è chiaramente dei cambiamenti di giorno in giorno e oggi direi che è il giorno dello spaventare. Quello che stai dicendo tu in questo momento è estremamente corretto sul campo perché le cluster bomb a frammentazione vanno principalmente a colpire i civili. Si vanno a frammentare in alto poco prima di toccare il suolo e quindi tutti i frammenti vanno ad uccidere. Non vengono spesso utilizzate, almeno non in questo contesto urbano, per altri obiettivi. In più, analizzando territorialmente, per esempio proprio qua a Sloviansk, i colpi sono letteralmente in parte alle abitazioni centrali e condomini dove gli obiettivi militari sono relativamente distanti, in alcuni casi anche di 3-4 chilometri. Capite quindi che quello che stai dicendo è effettivamente suffragato dalla realtà, almeno oggi, nelle ultime 24 ore. Grazie Claudio, proviamo a ricollegarci più tardi con te. Generale Fioravanti, ho bisogno di lei e della sua esperienza anche sul campo per capire una cosa. Nei giorni scorsi avevamo letto di uno stallo nella avanzata verso il Donbass. Che in realtà era un riarticolamento del dispositivo. Ok. Ne abbiamo parlato anche in trasmissione. E' quello che hanno fatto materialmente i russi, spostando le unità da nord e da nord-est, alcune facendole e mandandole nelle elettrovie, sostituendole e posizionandole nuove e quelle movimentate su tutta la parte est e sud-est. Se è vero che è iniziata questa pioggia di bombe anche sulle zone abitate, come ci conferma lo stesso Locatelli, direi che c'è sempre stata. Significa che questa fase del terrore è propedeutica poi ad un'occupazione militare con le truppe sul campo. E' la vecchia operatività espressa dall'Unione Sovietica e poi dalla Russia in tutti i teatri di guerra. Vedendo l'enorme numero delle perdite subite con l'avversario, utilizzano le vecchie tecniche, ovvero colpiscono al suolo, erradono al suolo le città, i villaggi, nel momento in cui non ci sono più infrastrutture che danno la possibilità all'avversario di difendersi, fanno entrare le unità. Ma è una cosa terribile, perché l'abbiamo visto a Grosni, completamente raso al suolo, ma anche a D'Aleppo recentemente, che cosa ha provato? E lo abbiamo visto in parte anche su Mariupol, il 98% degli edifici sono stati rasi al suolo. Voglio farvi vedere un'immagine che ha circolato ieri sui social che è particolarmente agghiacciante. Siamo ai bordi dell'acciaieria e guardate chi festeggia la presa della città. Allora, Fioravanti, generale Fioravanti, qui chiaramente abbiamo sentito Allah è grande, ma nel momento in cui festeggiano, ci sono tutti la massa dei movimenti, in questo caso sono sunniti, sunniti nel Medio Oriente, ma anche in Cecenia, che festeggiano in un altro modo, perché le unità cecene, una buona parte, sono in questo teatro e quindi loro possono cominciare a riprendere, a incrementare la guerriglia. Che cosa significa questo ricorso a questo punto così massiccio di mercenari anche stranieri? È una, direi quasi una debacle della Federazione Russa, perché l'operazione è iniziata con le proprie unità, abbiamo visto che non è andata come il Presidente Putin sperava, non è stato né arrestato né eliminato il Presidente Zelensky, né i suoi ministri, quindi non è stata più un'operazione speciale che si è passata in un altro tipo di... Tiziana Ferrari, che effetto ti fa vedere quelle grida agghiaccianti, ceceniche? Propaganda, è propaganda che nei teatri di guerra avviene regolarmente. Io ho ascoltato prima l'inviato Locatelli e diceva che si cerca di spaventare, a me pare che questa sia una guerra spaventosa e che non ci siano stati giorni in cui lo spavento sia stato minore, è stata un'escalation continua, siamo quasi a due mesi di guerra e non ho visto sempre di più alzare il livello dei combattimenti, il livello della violenza e non è un caso che ieri il Presidente Biden ha annunciato l'invio di altri 800 miliardi, milioni, mi ricordo neanche più milioni, di dollari, di armi, con anche droni molto importanti, già la scorsa settimana c'erano stati altri 800 milioni di invio di armi, quindi mi sembra che non ci sia né stallo né de-escalation, ma ci sia una guerra spaventosa che sta andando avanti e il cui risultato è molto incerto. Allora, visto che l'hai evocato Biden, lo risentiamo, così poi riparto da Peter Gomez per provare a decifrare quella che sembra un annuncio di sopraffazione nei riguardi dell'avversario russo. La nostra unità qui a casa, la nostra unità con i nostri alleati, con i partner, e la nostra unità con il popolo ucraino sta mandando un messaggio chiarissimo a Putin. Non riuscirà mai a dominare e a occupare tutta l'Ucraina. Peter Gomez, a me sembra un'affermazione un po' tautologica, nel senso che già dai primi di aprile si poteva dire che la Russia avesse rinunciato a occupare l'intero paese. Perché Biden decide di fare quel tipo di affermazione? Biden decide di fare quel tipo di affermazione perché l'obiettivo degli inglesi e degli americani è quello di creare delle condizioni per cui all'interno della Russia ci sia un cambio di regime. E in qualche modo Putin ha talmente indebolito da questa guerra, ne soffre anche internamente. Parallelamente ai Biden, lo citavi tu, stamattina ha parlato Macron e Macron ha detto alcune cose chiarissime. Signori, siamo a un pelo da diventare cobegilleranti. Scusate. Come leggeranti. Certo. Essere considerate il fatto di entrare in guerra. In Russia parlano già nei talk show di guerra contro la NATO. Ci ha detto anche Macron, signori, stiamo attenti perché siamo a un pelo dalla possibilità di utilizzo da parte di Putin di armi non convenzionali. E finché parla di armi chimiche, io inorridisco perché penso quello che può accadere alla popolazione ucraina. Quando incomincio a parlarmi di armi nucleari tattiche, penso che ci stiamo avvicinando a grandissimi passi verso la terza guerra mondiale. Allora qua è il caso che l'Europa incominci a ragionare perché gli interessi americani e inglesi non sono gli interessi europei. Bisogna certamente sostenere gli ucraini ma essere un pochino furbi in questa situazione. Allora ci viene in soccorso Piero Fassino che ringrazio di aver accettato il nostro invito, importantissimo dirigente del Partito Democratico ma soprattutto presidente della Commissione Esteri alla Camera. Visto che Peter Gomez evocava come nei talk show russi oramai non si esiti a parlare di guerra su scala planetaria, vi faccio vedere questo passaggio che è davvero inquietante e si ricollega con la sperimentazione del missile Sarmat di due giorni fa. Guardiamo un po'. Credo che l'operazione militare speciale stia entrando in una nuova fase. De facto si potrebbe considerare una guerra contro i membri della Nato, contro la macchina di guerra e i cittadini degli stati membri della Nato una volta che questa operazione terminerà. La Nato deve chiedersi Abbiamo tutto ciò che ci serve per proteggerci? Non ci sarà pietà. Non ci sarà pietà. Non sarà più solo l'Ucraina a dover essere denazificata. La guerra si configurerà poi contro l'Europa e il mondo intero. Queste sono le minacce alla Nato. Io però mi riferivo a un altro passaggio. Lo ascoltiamo. Sentite un po'. Beh, noi sappiamo verso dove lanciare i missili. Il nostro bersaglio è uno e chiaro. Gli Stati Uniti e il loro continente. Domanda, se questo missile dovesse arrivare lì, nella peggiore delle ipotesi, che tipo di danni farebbe? Beh, se 7 megaton e mezzo di potenza dovessero colpire il territorio di questo cosiddetto nostro partner, l'intera città di New York, una città fantastica però, verrebbe rasa al suolo, completamente. Basta un solo missile, davvero, rasa al suolo, completamente. Proprio tutta. Allora, Piero Fassino, tanto Tiziana Ferrario quanto Peter Gomez mettono in guardia l'Europa dal continuare in questa linea della escalation militare. Macron oggi invita l'Europa a mettersi alla guida di una iniziativa diplomatica, ma possiamo noi prenderci quella responsabilità se finora abbiamo armato Kiev e quindi possiamo passare agli occhi di Mosca come dei cobelligeranti? Ma io credo che non bisogna essere schiavi della propaganda perché il fatto che la Russia dica che questa è la guerra contro la Nato vorrei far notare che nell'arco di 30 anni da quando è caduto il muro di Berlino e si è costituita la federazione russa, la Nato non ha condotto alcuna minaccia alla Russia. e ricordo che in Italia 15 anni fa fu addirittura costituito il Consiglio di Cooperazione Nato-Russia come luogo di interlocuzione sui temi della sicurezza e della difesa tra l'Alleanza Atlantica e la Russia. E fino a circa un anno fa quel Consiglio di Cooperazione ha funzionato, riconendosi regolarmente. Quindi da ogni punto di vista è chiaro che in questo momento la Russia alza molto il tono della propaganda e della minaccia. Ricordo peraltro che quando Putin motivò l'ingresso nell'Ucraina lo motivò col fatto che doveva difendere le autore proclamate repubbliche nella parte orientale del Donbass. Ha cambiato ragione, giusto perché quella motivazione non reggeva, anche perché non si schierano 180 mila persone ai confini dell'Ucraina per tutelare due piccole repubbliche che costituiscono 3-4% del territorio ucraino o peraltro già nelle mani dei miliziani filorussi. Quindi da ogni punto di vista 180 mila uomini erano per un altro fine che poi si è visto qual era. Ma a parte questo io credo che sia un errore mettere in alternativa il sostegno alla resistenza ucraina e il continuare a battersi per aprire una strada diplomatica perché una strada diplomatica si riesce a ottenere forse solo se Putin viene fermato. E quindi se Putin avesse conquistato in tre giorni l'Ucraina come sperava all'inizio di questa avventura Fasino quando lei dice Putin viene fermato quindi ha ragione Borrell bisogna cacciarlo fuori dai confini dell'Ucraina occorre sostanzialmente costringerlo a una resa e in una posizione di estrema debolezza costringerlo a una trattativa. Io non mi metto a fare adesso il generale su cosa dove bisogna spingere o non spingere io dico una cosa chiara che continuare a sostenere la resistenza ucraina mettendogli a disposizione tutte le risorse che sono necessarie per resistere e le risorse sono delle armi perché anche quelli che dicono ce ne sono molti no ma inaspriamo ancora di più le sanzioni sì ma le sanzioni colpiscono l'economia non mettono al riparo dai messili le sanzioni non mettono al riparo dai proiettili non mettono al riparo dai bombardamenti sono due strumenti diversi che vanno usati tutti e due tutte le sanzioni possibili e al tempo stesso però il sostenere la resistenza ucraina mi scusi faccio finire è la condizione per riaprire uno spazio negoziale perché solo se i russi non riescono a farcela si potrà convincerli che bisogna mettersi a trattare e a trovare uno spazio negoziale se invece sfondano e vincono non ci sarà spazio negoziale però le leggo e poi sento subito su questo Tiziana Ferrario quello che dici il cancelliere tedesco Olaf Scholz che se non vado errato appartiene alla stessa famiglia europea del partito democratico essendo lui dell'SPD io faccio di tutto per evitare un escalation che possa condurre a una terza guerra mondiale non deve esserci una guerra nucleare questa è una risposta che Scholz dà in un'intervista allo Spiegel proprio in riferimento alla ipotesi di inviare anche armamenti pesanti e non solo di semplice difesa all'Ucraina Tiziana Ferrario allora intanto dobbiamo tutti augurarci che Macron ce la faccia questa tornata elettorale perché altrimenti la politica della Francia probabilmente cambierebbe e tutta questa unità europea non è così scontata già adesso comunque siamo uniti nell'idea generale dopodiché ognuno di noi ha una storia diversa ha un rapporto con la Russia diverso il gas che la Germania e noi prendiamo non è quello che prendono altri paesi europei però io volevo chiedere a Fassino cioè è come se tutto quello che ha preceduto l'inizio dell'invasione di questa guerra non venisse mai preso in considerazione l'intelligence americana è andata avanti per settimane a dire la Russia sta per invadere la Russia adesso invade quindi era molto chiaro quello che era nel disegno di Putin ma non è stato abbastanza decisivo l'intervento invece diplomatico cioè da una parte abbiamo visto gli americani alzare i toni molto i toni e Biden non li ha mai abbassati in questi due mesi di guerra e noi europei stare molto in silenzio allora forse quella era la fase in cui si sarebbe potuto evitare la guerra e non so se davvero sia stato fatto tutto quello che si poteva fare e da parte degli Stati Uniti e da parte dell'Europa allora Fassino un momento solo voglio passare da Peter Gomez e poi ritorno subito da lei così raccogliamo un attimo le questioni Peter Gomez la questione è abbastanza semplice dal punto di vista militare credo che il generale che ora avanti ce lo potrà confermare Putin ha certamente perso perché anche se arrivasse a conquistare tutto l'est dell'Ucraina ha dimostrato di non avere forze militari convenzionali in grado di aggredire altri paesi d'Europa cioè l'idea che avevamo all'inizio oddio oddio se Putin vince poi arriva e lo dicevo anch'io in Moldavia alle Repubbliche Baltiche e poi magari più giù più giù più giù Putin non lo può fare non ha abbastanza forze dal punto di vista tradizionale per farlo noi siamo molto più forti e questo è un punto di partenza rispetto all'atteggiamento europeo che è un atteggiamento importante il secondo ragionamento da fare è quello che viene fatto da tutti gli osservatori e vorrei che ci ragionassi anche Passino fin dall'inizio di questa guerra dicevamo dobbiamo trovare il modo di dare a Putin una via di uscita il motivo per cui armiamo giustamente alla resistenza ucraina è per rendergli più difficile la sua avanzata e per far sì che capisca che anche se potesse conquistare se poteva sperare di conquistare tutta l'Ucraina cosa che ha dimostrato di non poter fare si sarebbe trovato di fronte una forte resistenza armata quindi si sarebbe trovato a un tavolo oggi siamo in una situazione in cui invece Stati Uniti e Inghilterra ma anche l'Europa Borrell ci dice possiamo vincere e lo possiamo respingere oltre le frontiere benissimo io sono felicissimo figuratevi un criminale però se lo respingiamo al di là delle sue frontiere cosa auspicabile dobbiamo anche renderci conto che Putin avrà perso rispetto alla sua opinione pubblica perso rispetto agli oligarchi perso rispetto a tutta la sua struttura il suo potere sarà a rischio essendo un autocrate rischierà anche la vita perché in quei posti ti fanno fuori e la tentazione quindi di usare non quell'arme nucleare strategiche che abbiamo visto ma semplicemente un'arma nucleare e tattica che provoca un chilometro un chilometro e mezzo di danni sul terreno a buttare in Ucraina con conseguenze imprevedibili aumenterà il drago ferito signori stiamo scherzando col fuoco io non ho soluzioni ma sentire Fassino che dire è sicuro così la brividisco allora Piero Fassino come vede abbiamo raccolto le opinioni di due autorevolissimi giornalisti e così adesso posso ritornare da lei e poi ovviamente dal generale Fioravanti a parte che Gomez mi attribuisce posizioni che non ho ma comunque io vado alla sostanza primo le obiezioni che fa Tiziana Ferrario beh non è vero che è mancata un'azione diplomatica Macron è andato a Mosca due volte ha telefonato e ha continuato a mantenere un colloquio continuo con Putin ogni settimana Scholz è andato a Mosca tutti i principali esponenti politici prima che scoppiassero la guerra hanno avuto dei rapporti o diretti o online o telefonando con Putin chiedendo di fermarsi e proponendo di avviare un confronto la realtà ci sono stati tre incontri uno in presenza e due online tra Biden e Putin le pari degli americani abbiano avuto questa voglia di confronto no no certo ma era perdonami Tiziana è anche il collegamento ha più difficoltà Fassino mi perdoni vorrei finire perché se no siamo qui ad ascoltarla inutile confrontarsi se non ci ascoltiamo ecco appunto allora vorrei dire che non è vero che è mancata un'azione diplomatica e allora andiamo alla sostanza che cosa vuole Putin fin dall'inizio vuole un pezzo di Ucraina è questo che rende complicato uscirne diplomaticamente perché scusate qual è quel dirigente ucraino che va a una trattativa e dice sì sono disposto a darti un pezzo del mio paese è questo il problema complicato da risolvere se ci fosse un paese che aggredisce l'Italia ne invade un pezzo del territorio e viene e dice io mi fermo soltanto se mi date il Veneto e la Lombardia noi risponderemo va bene e questo è il punto delicato che bisogna capire perché è difficile un negoziato perché il tema del negoziato è un tema su cui è difficile trovare un accordo perché ripeto Putin fin dall'inizio prima facendoci credere che gli interessavano soltanto le autoproclamate repubbliche poi invadendo e pensando addirittura di prendersi tutta l'Ucraina poi non è riuscito a prendersi tutta l'Ucraina ha ripiegato e adesso dice voglio il Donbass e anche la costa sul Mar Nero fino a Odessa perché questo è l'obiettivo certo e capite che se una trattativa su questo tema è molto complicata allora facciamo i conti con il dato chiarissimo allora siccome io continuo a pensare continuo a pensare continuo a pensare che non bisogna rassegnarsi alla guerra che bisogna cercare la strada per riaprire un canale diplomatico il canale diplomatico lo apri soltanto se però gli ucraini resistono poi io non mi metto a dire ricacciarli andare oltre non lo so questo è un fatto militare che lascio ad altri dico resistere a Putin perché questo è l'unico spazio per aprire un negoziato che però bisogna sapere nel momento in cui si aprisse è complicato perché i russi chiedono un pezzo di Ucraina e non c'è dirigente ucraino non Zelensky di qualsiasi orientamento che sia in grado di andare a dire ti do un pezzo del mio paese ho alcune questioni da rivolgere al generale Fioravanti se posso intanto le rivolgo una prima domanda generale come è cambiata la strategia militare russa sulla scorta anche degli insuccessi sul campo così come lasciava intendere Gomez è cambiata la strategia di supporto militare dell'Occidente da prima l'idea di contenere l'avanzata russa adesso invece l'idea di respingerla completamente ieri Michelle ha parlato di porteremo l'Ucraina alla vittoria il porteremo alla vittoria intendeva in qualche modo per arrivare ad una trattazione da una posizione di forza quello che volevo dire è chiaramente questo ha fatto cambiare tutta la pianificazione russa e l'abbiamo visto quanti generali sono stati defenestrati è stato nominato un comandante in capo nuovo proveniente dall'ES Dvornikov però volevo fare velocemente sintetizzando quello che il direttore Gomez e il presidente Fassino dicevano ragionando come un qualunque generale non gli schizzati o colonnello russo due errori politici strategici ne derivano da questa terribile tragica invasione il primo è ragione come ufficiale russa anziano che tra l'altro la quasi totalità si conoscono con i generali ucraini perché provengono dalla stessa formazione e la cosa più terribile è il primo fattore che è stato invaso un popolo fratello un popolo che ha combattuto insieme contro il nazismo un popolo che è l'unico al mondo che ha per presidente un ebreo l'unico fuori di Israele secondo errore questa scellerata e sciacurata decisione di invadere ha provocato quello che dal 45 in poi non era mai successo ovvero paesi eternamente neutrali come la Svezia anche la Finlandia un po' meno ma comunque neutrale e addirittura vediamo gli ultimi sondaggi Svizzera l'altro ieri cominciano a pensare e la Svezia sarà molto a breve ad entrare nella NATO quindi è una cosa terribile e i colleghi anziani i russi militari non possono non saperlo in sintesi da quello che vediamo in queste ultime ore c'è una forte iniziativa anche nostra italiana del presidente Draghi che ha molto voce in capitolo e sono convinto le avrà ancora di più collegato con Erdogan che piaccia o meno è quello che ha il canale più aperto per poter arrivare ad un cessato al fuoco perché è il primo passo per poter fare qualche cosa di serio senza peraltro penalizzare troppo la Russia perché quel corridoio gli serve allora abbiamo citato quello che lo stesso Draghi aveva definito un dittatore vi voglio fare sentire quello che per tanti anni è stato considerato l'orco del sovranismo internazionale ieri grandissimo colpo giornalistico di Corrado Formigli aveva in studio Steve Bannon e in un'intervista nella quale ha avuto parole durissime contro l'Europa però ha indicato anche quale dovrebbe essere la missione dell'Europa per risolvere la crisi ucraina sentiamolo no non può farlo a bad è un problema europeo gli Stati Uniti d'America non hanno interessi di sicurezza vitali per quanto riguarda questa disputa di confine tra Russia ed Ucraina e questo lo dicono i populisti repubblicani dall'inizio questo è un tema europeo va risolto dall'Unione Europea dalla Nato dall'Italia la Germania bisogna interrompere i flussi di gas e costringere Russia a sedersi ad un tavolo siete voi a doverlo fare gli Stati Uniti non hanno interessi di sicurezza vitali lì Tiziana Ferrario l'Europa anche con tutte le divisioni che sta mostrando in questa fase sulle armi abbiamo sentito Scholz ma sulle sanzioni su gas e petrolio vale la stessa logica potrebbe essere all'altezza di un'operazione come quella indicata da Bannon intanto fammi dire che mi fa un certo effetto farmi spiegare le cose da Bannon ideologo dell'estrema destra che è finito anche in un'inchiesta in uno scandalo in America per avere sottratto dei soldi che erano stati donati per fare opere di beneficenza ecco diciamo che avere Bannon che viene qua amico di alcuni leader italiani che viene qua a spiegarci come si deve fare è stato intervistato secondo me era una voce autorevole da sentire siccome l'ho vista ieri sera all'intervista allora è una posizione americana indipendentemente da quale partito sia ecco allora mi fa un certo effetto sapendo da che pulpito però è vero che dice una cosa reale cioè che i nostri interessi non sono quelli degli americani e non sempre è apparso così chiaro in questi due mesi perché abbiamo visto anche se lo so che l'onorevole Fazzino non concorda con me su questo abbiamo visto più volte comunque l'Europa allinearsi a delle posizioni decise dall'America ma è evidente che l'America è autonoma da un punto di vista energetico ci venderà probabilmente il gas che ci costerà il 30% in più perché va l'ico è fatto e poi va rigassificato insomma quindi diciamo che se dobbiamo andare banalmente a chiederci ma chi ha dei vantaggi da tutto questo certo non siamo noi europei quindi è vero io sono convinta che comunque siccome la guerra si combatte nel cuore dell'Europa certo l'Europa non può stare a guardare considerarsi ormai belligerante quindi non può neanche provare a insieme tutti insieme provare a trovare un accordo per una almeno un cessate il fuoco Peter Gomez Fassino dice una cosa anche molto comprensibile quale dirigente ucraino potrebbe accettare una mutilazione del proprio territorio quale ucraino quale cittadino ucraino potrebbe accettare una violazione della propria integrità territoriale dopo aver patito 60 e rotti giorni di guerra forse l'Europa potrebbe far digerire questa mutilazione in cambio di un'aggregazione della Ucraina dentro la comunità europea questo potrebbe essere un terreno di scambio che dà all'Europa anche un margine di manovra sul profilo diplomatico Fassino ha ragione quando fa quel tipo di considerazione il dato di fatto è che le trattative si iniziano quando una delle due parti è in evidente vantaggio per questo credo che dal punto di vista militare ma più avanti ce lo dirà meglio nei prossimi giorni vedremo un'escalation continua sul territorio perché loro vogliono prendere più terreno possibile hanno cambiato generale cercheranno di andare avanti per presentarsi forti e tu hai detto altrettanto bene la cosa che noi possiamo offrire agli ucraini è vi facciamo entrare in Europa molto velocemente vi diamo una mano la riflessione che dobbiamo fare su tutto questo è però non è vero che non sono stati commessi sono stati commessi gli errori si ha ragione il Wall Street Journal che ha raccontato come Scholz abbia tentato di spiegare prima dell'inizio della guerra Zelensky pochi giorni prima rinuncia all'ingresso nella Nato non perché avessero ragione i russi noi dobbiamo metterci nell'ottica in cui pensano i russi non se hanno ragione sull'allargamento della Nato eccetera che probabilmente non hanno ragione su quelle cause ma loro pensano di avere ragione e quindi sul travolo della trattativa tutto questo finisce è un dibattito ozioso chiedersi ma se è vero o no la Nato eccetera lo pensano loro hanno torto certamente forse hanno attaccato e noi abbiamo letto sull'allargamento che Scholz andò a dirgli rinuncia dichiara subito la tua neutralità sarebbe servito non lo so ma certamente da altre parti a parte da Scholz non è arrivato quel segnale a Zelensky Zelensky ha cominciato a dirlo dopo due settimane ok di fatto siamo neutrali io non discuto la Nato però parto da un principio di realtà sono stufo di questi Guelfi e Ghibellini per cui se uno cerca di analizzare le cause tu sei anti-Nato o anti-americano io sono cittadino americano per favore certo basta con questa storia italiana cerchiamo di essere più razionali a questo punto la frittata è fatta possiamo solo aspettare che Putin avanzi perché altrimenti se si incalcriscono lì e si bloccano lì in mezzo il rischio dell'utilizzo delle armi nucleari tattiche aumenta certo non c'è un'altra storia tutti coloro i quali dicono che debbano essere reggettato deve essere reggettato in Russia dicono una cosa che personalmente trovo bellissima ma nella realtà è una cosa pericolosissima per voi nello studio per me per i miei figli e per tutta Europa e certo soprattutto per chi verrà dopo di noi Piero Fassino voglio chiudere questa parte di trasmissione con lei tra l'altro il suo segretario e lei stesso oggi su Repubblica avanza una proposta di io la leggo così di Europa a due velocità ma che sia come dire capace di aggregare anche i paesi che stanno all'est questo potrebbe essere come dire propedeutico per l'apertura di una trattativa che magari faccia digerire anche la rinuncia a un pezzo della integrità territoriale dell'Ucraina ecco ma io parto da queste sue ultime parole ma noi possiamo dire al tavolino ipotizzare ogni soluzione ma lei pensa ragionevole che ci sia una trattativa alla fine del quale c'è un dirigente ucraino che firma una carta che dice rinuncia a un pezzo del territorio no nella migliore delle ipotesi questa offensiva a un certo punto mi faccia parlare a un certo punto però non è possibile andare avanti così mi fa mi fa parlare è stato discusso nell'incontro dei ministri degli esseri a Istanbul Fassino no mi perdoni era solo per entrare in un rapporto dialogico ma ovviamente non per togliere la parola scusi allora se lei mi interrompe non si può fare un ragionamento dico questo allora la migliore delle ipotesi allo stato attuale dei fatti è che si riesca a ottenere un cessato il fuoco e che il cessato il fuoco segna una linea di demarcazione la linea di demarcazione come già avvenuto tra Armenia e Azerbaijan nel Nagorno-Karabakh diventa de facto il congelamento del conflitto poi si dirà adesso si aprirà una trattativa secondo me non so se si aprirà si aprirà una trattativa e non sappiamo quali sono gli esiti ma quello è forse quello che si può ottenere un cessato il fuoco con il congelamento del conflitto ma l'idea che noi convinciamo gli ucraini a rinunciare a un pezzo di territorio è un'idea secondo me che non ha senso io sono favorevolissimo all'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea e l'ho detto prima che lo dicessero molti altri come ho detto prima che cominciasse il conflitto che la soluzione poteva essere che la Nato come dire andasse sullo sfondo che l'Ucraina si dichiarasse immediatamente neutrale e che questa neutralità venisse garantita dall'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea quindi come vedete ho una posizione assolutamente ragionevole non oltransista però attenzione che noi qui in questo studio e in generale stiamo facendo questo ragionamento se noi facessimo un'altra cosa o non avessimo fatto quello che abbiamo fatto Putin non avrebbe fatto l'offensiva ripeto non è vero perché Putin vuole un pezzo di Ucraina vogliamo fare i conti con questo nodo che è un nodo complicato ma questo è il tema perché quando perché scusa quando Zelensky sia pure in ritardo ha detto benissimo la Nato non c'è più io mi dichiaro neutrale chiedo l'integrazione dell'Unione Europea non è che Putin ha detto va bene allora di fronte a queste dichiarazioni mi fermo e trattiamo certo non l'ha mica detto chiaro ha fatto finta di niente allora generale rapidamente perché poi devo andare sul campo quindi lo scenario più plausibile è quello che la guerra finisce e rimane una polveriera in cui sotto ci sono dei tizoni di tensione anche bellica lo scenario più possibile è quello che prevedemo nel 2014 febbraio operazioni in Crimea aprile e maggio le due repubbliche le due province del Donbass fine giugno conferenza dei comandanti delle forze speciali a Bucharest dove io ho partecipato tutti ma non perché forze speciali come militari riconoscemmo che lo step successivo era unire il corridoio dal Restov confine città russa fino alla Crimea tanto è vero che dopo pochi mesi è partita la costruzione del ponte quello di 18 km e 100 metri che collega che era proprio urgentissimo il collegamento alla madre patria russa ed è stato inaugurato da Putin cosa è successo? ne sono convintissimo è arrivato il Covid questa operazione che non si può pianificare e rispondo al direttore Gomez tanto per intenderci in generale stiamo parlando di un ponte che collega questo da qui collega la Crimea a 18 km e 100 metri alla Russia è un ponte che si può distruggere in 5 secondi è chiaro che necessità di aprire il corridoio di Arestov che è qui fino alla Crimea probabilmente quello che ha rallentato questa operazione che bisognava pianificarla in 2-3 anni prima è stato il Covid e l'ha rallentata ma non c'entra niente sono convintissimo Claudio Locatelli mi chiede la linea Sloviansk è arrivato in un punto in cui si vedono gli effetti devastanti credo delle cluster bomb sì la frammentazione delle cluster bomb va a colpire ovviamente poco più alto della terra quindi si sganciano in aria e vanno a frammentarsi tutti intorno questo è uno degli edifici ma il punto è l'estensione una sembra sia stata intercettata mentre le altre adesso vi giro la camera così potete vedere meglio che voi questi cittadini sono arrivati qua ora per ripulire vedete che sono esplosi tutti i vetri ma girando l'edificio perché il punto non è tanto in sé che potrebbe sembrare secondario ma appunto perché quella che è caduta qua è stata intercettata ma sulla facciata dell'edificio guardate anche qui sta suonando la sirena non lontano da qua vedete adesso i fori sulla facciata di questo edificio sul lato di questo edificio anche di qua immaginate questi frammenti a entrarvi in corpo per fortuna in questo esatto edificio non ci sono stati feriti guardate anche qua la cosa incredibile Claudio dalle immagini che straordinariamente ci stai offrendo è che questi edifici hanno tutto forché le sembianze di obiettivi militari sono delle palazzine che ragionevolmente sono ancora abitate o se non sono più abitate lo erano fino a pochissimo tempo fa Claudio mi devo fermare perché incombe la pubblicità se puoi restare collegato con noi ritorniamo tra pochissimo certo grazie venuta a incontrare Grillo ci salutiamo di persona ne uscirà una posizione di Grillo sulla questione ucraina che ancora non si è espresso a riguardo è iniziata questa mattina presto la seconda giornata di incontri di Beppe Grillo qui all'hotel Forum come è andata come vi siete benissimo ho avuto il piacere di incontrare Beppe abbiamo fatto una bella ghiacchierata ma si è espresso sulla guerra in Ucraina Grillo condivide le posizioni del movimento sulle armi di questo avrete parlato insomma la questione più importante attualmente in agenda no ma io sono stata a pochi minuti e ho fatto un saluto Grillo non è il capo politico il popolo ucraino ha il nostro sostegno incondizionato umanitario militare ma assolutamente no intanto a pochi chilometri di distanza dai fori imperiali si sta consumando un giro di valse tra Victor Orban e Matteo Salvini che promette frizioni nel centro-destra e nella maggioranza è opportuno questo incontro secondo lei? ha incontrato il Papa dai non scherziamo abbiamo ragionato di come metterci alla punta per fermare una guerra che sta portando solo disastri Salvini sta incontrando Orban in un momento del genere è opportuno o è una spaccatura all'idea per il governo sul fronte ad antista? una spaccatura? per quale motivo? non è che le posizioni di Orban sono molto in linea? non so quello che dicono non so quello che faranno però Salvini mi sembra una persona più che adeguata per poter affrontare la politica estera del nostro paese penso che la maggioranza sopravviverà all'incontro tra Salvini e Orban sono frequentazioni molto discutibili dal nostro punto di vista naturalmente poi si assume lui le responsabilità politiche delle persone che incontra Peter Gomez voglio ripartire da te Grillo che non ha mai speso una parola sul conflitto in Ucraina vede i dirigenti del Movimento 5 Stelle Salvini vede Orban che è il leader europeo più vicino a Putin potrebbe incrinarsi secondo te la linea il sostegno alla linea del governo italiano sulla guerra in Ucraina io so quello che sarebbe giusto fare che mi aspetterei come cittadino dai miei rappresentanti noi abbiamo deciso e io ero d'accordo ve l'ho detto di fornire armi alla resistenza ucraina sulla base di una frettulosa riunione che c'è stata in Parlamento sull'onda dell'emotività oggi la situazione sul campo sta cambiando stanno cambiando le minacce stanno cambiando gli interventi anche da parte americana e da parte inglese abbiamo il ministro degli esseri turco che dice esplicitamente che ci sono all'interno della coalizione paesi che non spingono per la durata breve della guerra tutto questo è giusto che diventi oggetto davvero di un grande dibattito parlamentare non è il dibattito che abbiamo visto l'altra volta dobbiamo riflettere se anche noi vogliamo continuare a mandare armi che forse è una cosa giusta se vogliamo mandare solo armi leggere e non armi pesanti cosa vogliamo fare rispetto al gas perché poi questa cosa ridicola che da una parte gli mandiamo le armi e dall'altra gli finanziamo noi la guerra è qualcosa che non sta né in cielo né in terra cioè quello sta facendo la guerra grazie ai soldi che gli stiamo dando e noi diamo un pochino di armi a quell'altro allora tutto questo in una repubblica normale si apre un dibattito vero parlamentare e poi si decide ti devo fermare Peter perché ho poco tempo e io voglio sentire una replica di Fassino sulle due questioni teme che si possa incrinare il sostegno alla linea del governo e poi sullo specifico delle armi pesanti oggi Repubblica anticipa l'Italia valuta l'invio alla resistenza di armi più pesanti quindi anche armi come dire cingolanti peraltro era stato messo anche il segreto sulle armi che già dovevamo mandare oltretutto peraltro dunque io penso che la questione di sostanza è se noi consideriamo che sostenere la resistenza ucraina sia la condizione per fermare questa avventura e in primo luogo riuscire a ottenere un cessato del fuoco e poi se si riesce a favorire l'apertura di una trattativa se questo è l'obiettivo beh si utilizzano gli strumenti che sono funzionali a questo obiettivo a me questa discussione francamente che dice gli mandiamo delle armi ma le mandiamo a metà mandiamo le armi che servono a far sì che gli ucraini resistano perché non stiamo discutendo dell'Ucraina che sta per invadere la Russia vorrei che cercassimo anche di stare dalla parte della ragione siamo di fronte al fatto che la Russia con le sue truppe sta invadendo l'Ucraina sta cercando di ottenere diciamo il controllo di tutto il Donbassi e della costa sul Mar Nero e gli ucraini cercano di difendersi e di impedire questa offensiva e questa aggressione e questa invasione noi riteniamo che si debbano sostenere gli ucraini in questa loro difesa e allora gli si mandano le armi che servono chiaro riteniamo di no non è preoccupato della tenuta della maggioranza su questo fascino ma io penso che ogni forza politica poi deve fare i conti esattamente con queste questioni che sto dicendo certo io fino adesso la maggioranza è stata unita sia pure poi magari unita a votare in Parlamento e poi magari con dichiarazioni di qua e di là non sempre diciamo corretti ma questo ci sta fino adesso la maggioranza è stata coerente e unita se non lo sarà se non lo sarà e naturalmente ogni forza politica ha diritto di assumere la posizione che ritiene bisogna che però ogni forza politica risponda a questa questione dobbiamo lasciare che l'offensiva russa vada avanti e gli ucraini come dire siano travolti oppure no perché questa è la questione voglio chiudere Tiziano Ferrari telegrafica beh io ricordo però l'altro giorno l'intervista di Draghi che dice dobbiamo essere anche consapevoli che la pace costa sacrifici allora io chiedo quali sono i sacrifici che siamo disposti poi anche a fare e fino a che punto appunto la maggioranza terrà rispetto poi ai sacrifici che verranno chiesti agli italiani allora è una domanda che c'entra in la questione che affronteremo subito dopo la pubblicità perché vi portiamo in due stabilimenti importantissimi che già fanno i conti con i sacrifici dovuti ai costi di una guerra che è già qui ci dobbiamo fermare grazie Peter Gomez a Piero Fassino Tiziana Ferrari il generale Fioravanti ci fermiamo siamo un po' in ritardo corriamo in pubblicità voi restate con noi ci mancherebbe eccoci di nuovo in diretta siamo andati un po' lunghi con il dibattito della prima parte sono passati due minuti dalle 12 mi collego subito e mi chiedo scusa per il ritardo con Luca Speciale Luca buongiorno buongiorno Francesco buongiorno a te recuperiamo noi dicendo che nel telegiornale alle 13.30 racconteremo il 58esimo giorno di guerra partendo ancora una volta da Mariupol che tenta di resistere con i soldati e i civili asserragliati dentro l'acciaieria simbolo appunto di questa resistenza sono state sganciate bombe anti-bunker ci sono morti e feriti ma non c'è assolutamente l'idea di una resa al momento il governo di Kiev fa sapere che oggi non ci saranno nemmeno oggi i corridoi umanitari perché i percorsi sono troppo pericolosi si continua a combattere anche sulla fronte est quello del Donbass e Mosca ha rifiutato una tregua in occasione della Pasqua ortodossa ti dico anche a questo proposito che salta l'incontro tra Papa Francesco e il patriarca di Mosca Kirill Bergoglio ha detto in questa fase un incontro tra noi doveva essere a giugno a Gerusalemme potrebbe creare troppa confusione ci vediamo alle 13.30 grazie grazie Luca speciale saluto subito i nuovi ospiti che mi hanno raggiunto e che ovviamente ringrazio Alessia Morani parlamentare del Partito Democratico buongiorno Morani buongiorno Giuliano Cazzola docente economista Carlo Cambi scrittore giornalista saggista scrive per la verità e panorama dobbiamo ritornare a parlare della guerra della guerra che si combatte ci eravamo collegati poco fa dal Donbass con Claudio Locatelli adesso andiamo nelle retrovie del fronte meridionale a Micolaive c'è il nostro Sabato Angeri Sabato buongiorno com'è la situazione a Micolaive buongiorno buongiorno a tutti allora in questo momento sono appena arrivati questi mezzi che sono alle mie spalle ora ve li faccio vedere che sono delle cisterne che portano portano acqua qui alla Croce Rossa ho appena stavo intervistando un ragazzo che fa il volontario qui e mi spiegava che nelle ultime ore la situazione si è si è deteriorata perché c'è molto c'è molta apprezzione rispetto a ciò che succederà a Mariupol anche se ovviamente nessuno si sbilancia con affermazioni che possono essere interpretate come negative ovviamente si cerca sempre di tenere per quanto possibile il morale alto nella notte non ci sono stati bombardamenti dopo la giornata dell'altro ieri che invece era stata segnata ancora da bombardamenti purtroppo ancora con bombe a grappolo che lo ricordiamo feriscono principalmente i civili perché per gli obiettivi militari non servono quasi a nulla in quanto sono frammenti di metallo esplosi a mezz'aria questa mattina ancora nel centro ci sono stati alcuni episodi di chiamiamoli di tensione perché ovviamente dopo quasi dieci giorni senza acqua le persone iniziano ad essere esasperate immaginate come possa essere difficile mi spiegava questo ragazzo che con gli altri volontari della Croce Rossa dormono insieme e anche andare al bagno diventa una cosa complicata e quindi è tutto la vita ordinaria diventa diventa molto difficile questo forse è uno degli effetti peggiori che ha la guerra sulla popolazione civile che è molto più difficile da raccontare ma che per fortuna grazie ai nostri inviati sul campo riusciamo a restituire che cosa significa il dramma della guerra anche quando non ci sono delle piogge di bombe grazie sabato algeri questa è la guerra in ucraina lo abbiamo detto una guerra alle porte della Europa ma già nella nostra Europa nel nostro paese la guerra si sente la guerra è già qui vi abbiamo parlato delle acciaierie di Mariupol ebbene adesso ci colleghiamo con una realtà del veronese che è strettamente collegata con quell'impianto di cui oramai non restano che devastazione e distruzione Emilia Missione raccontaci tutto si Francesco buongiorno noi siamo a Oppeano veronese uno dei centri del siderurgico del nord est Italia e quella che vedi qui alla mia sinistra è la ferriera Val Sider di proprietà dello stesso gruppo la Metinvest dell'acciaieria Azovstal di Mariupol e come puoi immaginare da quando è scoppiata la guerra ha dovuto affrontare non pochi problemi quell'acciaio che partiva dai porti di Mariupol ha smesso di arrivare e quindi la ferriera oggi si trova a dover affrontare uno stop alla produzione che tra pochi giorni avverrà e quindi l'azienda ha già iniziato le procedure per la cassa integrazione sono al momento in corso le trattative tra i lavoratori e l'azienda per far fronte alla mancanza dell'acciaio ucraino però voglio farti notare anche un'altra cosa da quest'altro lato c'è un'altra fabbrica che lavora all'acciaio ma è di proprietà russa la NLMK e qui invece non si devono affrontare questi tipi di problemi la produzione continua insomma una rappresentazione plastica del conflitto anche qui appunto nel nord est italiana io tra un po' ti farò parlare con alcuni dei lavoratori che ci siano dei migliori rapporti di buon vicinato assolutamente sì e infatti i lavoratori ci hanno raccontato che sia nell'una che nell'altra lavorano anche tanti operai sia russi e ucraini e qui insomma le differenze legate alla guerra si annullano c'è un clima assolutamente di collaborazione ti chiedo questo se hai modo magari tra poco di avvicinare qualcuno di questi lavoratori proviamo a ragionare assieme anche con loro degli effetti devastanti della fine della produzione di acciaio a Mariupol prima di dare la parola ai nostri ospiti però vi voglio presentare un'altra situazione che sembrerebbe all'opposto il mondo del ferro dell'acciaio il caldo il mondo dell'agroalimentare dei surgelati il freddo anche lì si fanno i conti con i costi di questa guerra Simone Carusone è a Cesena dove ti trovi precisamente Simone buongiorno sì Francesco buongiorno noi oggi siamo a Cesena nello stabilimento Orogel per raccontarvi come gli effetti della guerra incidano anche su un settore come quello del surgelato già fortemente provato dai rincari energetici che da qualche mese stanno provando queste aziende noi siamo nel settore del fresco qui è dove lo spinacio arriva viene lavato in queste vasche che vedete prima poi di passare all'altra vasca quella a fianco dove viene poi scottato prima del suggeramento vero e proprio come vedete ve le stiamo mostrando perché sono macchine molto energivore l'anno scorso un'azienda come Orogel ha pagato bollette per 14 milioni di euro e probabilmente quest'anno le pagherà per almeno il 20% in più addirittura il doppio ma c'è un altro tema che però è legato alla guerra è quello l'approvvigionamento di materie prime come per esempio i fertilizzanti usati nei campi da dove arrivano le materie prime i prodotti che poi vengono trattati qui in questa azienda o addirittura l'olio di semi di girasole che arriva dall'Ucraina e che in questo momento è bloccato nei porti e che serve per i pastellati insomma tutta una serie di circostanze che possono provocare addirittura uno stop a delle linee produttive mettendo a rischio anche dei posti di lavoro allora parleremo di questo anche dei temi energetici con l'amministratore delegato Giancarlo Foschi che ci racconterà Simone come ho chiesto a Emilia raggiungi il tuo interlocutore appena saranno pronti torneremo in questi due importanti stabilimenti eccoci signori vi abbiamo fatto vedere plasticamente che cosa significa fare i conti con la guerra abbiamo provato a tradurre nel concreto quello che il Fondo Monetario Internazionale ha esplicato con quei numeri chiedo alla regia di agevolarmeli sulla Videwall una contrazione importante delle previsioni di crescita che colpiranno soprattutto il nostro continente e in particolare l'Italia Alessia Morani chiedo a lei che cosa si deve fare per cercare di contrastare gli effetti di questa guerra soprattutto se la prospettiva di durata del conflitto rischia di andare ben al di là di quel famigerato 9 maggio noi dobbiamo fare due cose principalmente il nostro governo come sta facendo deve continuare a dare una mano ad imprese e famiglie per tutto ciò che riguarda i rincari dovuti alla guerra ricordiamoci purtroppo che noi già veniamo da un contesto piuttosto difficile che era quello della pandemia a cui si aggiunge questo della guerra per cui il governo sta predisponendo gli interventi ulteriori rispetto a quelli che già sono stati fatti io credo ad esempio che la proroga del taglio dell'accise sui carburanti piuttosto che gli sconti sugli oneri fiscali e parafiscali delle bollette il credito di imposta per le aziende energivore siano tutte iniziative che debbono essere reiterate come anche l'allargamento della fascia delle famiglie che possono accedere ai cosiddetti bonus energetici che già è stato innalzato e poi c'è il fronte europeo si sta studiando una strategia energetica comune perché è evidente che i singoli governi da soli non possono riuscire ad affrontare questa gravissima crisi che non è solamente energetica ma come dicevate voi riguarda l'approvvigionamento delle materie prime dall'acciaio all'agroalimentare per cui credo che la strategia europea che si sta predisponendo sia la strategia più utile ed efficace che in questo momento possiamo mettere in campo questo sul fronte dell'energia è un problema perché in verità finora abbiamo assistito anche da parte del nostro governo legittimamente un'iniziativa solitaria per provare a correre ai ripari ma in assenza di un quadro di politica energetica comune Giuliano Cazzola crescono i prezzi delle materie prime e dall'altra parte si vede una contrazione anche della crescita dovuta agli effetti della guerra è un quadro fosco che potrebbe segnare non solo la ripartenza ma tutto il prossimo decennio beh il quadro è sicuramente un quadro peggiorato peraltro il Fondo Monetario Internazionale dà delle previsioni come ricordava lei che sono peggiori di quelle del documento di economia e finanza però il problema è che bisogna andare alle radici cioè la guerra non è figlia di nessuno la guerra è colpa di chi ha invaso l'Ucraina ed è la Russia insomma quindi dobbiamo non è che possiamo vedere le difficoltà che abbiamo come una specie di disgrazie che ci è caduta addosso la guerra c'è comunque e diciamo dalla guerra non si esse con la regia dell'Ucraina se vogliamo la pace parliamo di pace vera ma cioè però quelli che dicono comunque bisogna fare la pace fare la pace siano seri e dicono vogliamo che l'Ucraina si arrenda cioè quella acciaieria che è collegata a quell'altra del nord del nord est insomma non è assediata dagli ucraini è assediata dai russi è assediata dai russi poi sai noi siamo stati così così prematuri nel fare dei danni al nostro paese che abbiamo quasi distrutto l'ex silva di Taranto ce la siamo fatti con le nostre mani era un grande fornitore di acciaio del nostro paese abbiamo pensato di ammazzarla la magistratura ha cercato di ammazzarla quindi anche su questo credo dovremmo riflettere allora Carlo Cambi prima di arrivare da te ritorno a Verona perché la nostra Emilia Missione è riuscita a intercettare due lavoratori del stabilimento siderurgico che è della stessa proprietà della acciaieria di Mariupol insomma non so se riescono a sentirmi voi lavoravate con i manufatti che arrivavano dal Mar d'Azov e quindi adesso vi ritrovate senza più rifornimenti sì praticamente sì ancora per qualche giorno ma la nostra holding ha già provveduto a trovare la materia prima su altri mercati che il prima possibile tra la metà maggio fine maggio dovrebbero essere qui ok quindi questa è una buona notizia però mi raccontavano che esatto appunto rivolgersi al mercato non è stata ovviamente una soluzione una soluzione semplice dato appunto il filo diretto che prima collegava le due le due acciaierie e che l'azienda appunto sta cercando soluzioni alternative è stata chiesta appunto la cassa integrazione ma voi siete al lavoro di comune accordo con l'azienda per cercare insomma anche altre strategie certo l'azienda ci ha dato l'opportunità finita la produzione via dicendo di fare una manutenzione che la facevamo ad agosto invece adesso viene anticipata pur per non lasciare a casa la gente e fare quello che è insomma il lavoro per non usufruire della cassa integrazione certo ci togliete una curiosità perché noi purtroppo abbiamo conosciuto Azovstal come una distesa di distruzione di macerie voi invece la conoscevate quando ancora era in piena funzione da quello stabilimento che cosa partiva che poi voi andavate a lavorare e trasformare allora partivano le bramme che poi arrivavano da noi e venivano lavorate in lamiere oppure in rotolo di lamiere i cosiddetti cois che per quanto riguarda il trasporto era più semplice che non lamiere e poi dopo andavano i vari fornitori che venivano messi in opera le posso chiedere che effetto le fa avere visto quel tipo di devastazione in un centro siderurgico che sarà diverso per dimensioni rispetto a quello in cui lavora lei ma nel quale lavorano di fatto colleghi che come lei avevano hanno la stessa esperienza le stesse competenze per lavorare il ferro è una pugnalata al cuore vedere quelle immagini sono strazianti e molta malinconia del momento di pace che c'era certo però noi siamo speranzosi e speriamo che possa finire il primo possibile come la nostra Emilia Missione ce lo ricordava lo ricordava anche lei i vostri amministratori stanno evidentemente cercando sul mercato altri fornitori ma come lavoratori siete preoccupati dall'idea che questa guerra nel suo protrarsi possa come dire anche frenare quella crescita che tutti quanti noi ci aspettavamo anche usciti dalla pandemia beh certo la preoccupazione è sempre però noi non molliamo perché sappiamo che comunque lì non mollano e noi siamo speranzosi come loro ecco noi abbiamo speranza crediamo in loro e crediamo in noi stessi grazie un grande un grande in bocca al lupo Carlo Cambi abbiamo fatto vedere che cosa significa la devastazione di Mariupol non solo il dramma umano di chi c'è dentro ma le ricadute dirette anche nella nostra economia ci aspettano tempi bui ci aspettano tempi durissimi anche perché noi stiamo parlando di tutto tranne che delle cose che stanno intorno al processo economico vi faccio notare che oggi lo spread del BTP è arrivato a 167 il BTP rende circa il 2,6% il che significa che noi paghiamo all'incirca 250 milioni al giorno di interessi passivi sul debito l'onorevole Morani dice che la soluzione è continuare a dare un po' di aiuti quello è altro debito pubblico qui il problema è che non abbiamo elaborato nessuna strategia di politica economica è il primo DEF che io conosco da quando faccio il giornalista economico che ha delle cifre in bianco ci sono delle cifre scritte a caso là dentro oggi pomeriggio standard e pure darà il rating all'Italia voglio vedere che tipo di rating è quello che non si capisce è che noi stiamo affrontando la guerra sull'onda di una presunzione ideologica ma non facciamo i conti con la realtà vi faccio notare due cose e poi mi traccio la prima si dice l'Europa l'Europa bene in Europa c'è un paese come la Norvegia che col suo fondo sovrano energetico ha guadagnato 150 miliardi di dollari grazie all'aumento dei prezzi energetici dall'altra c'è la Germania che ha già detto che non stacca il gas neanche a morire e nel mezzo ci siamo noi che stiamo accattonando in giro per l'Africa dei pezzetti di gas qua e là apro parentesi in Algeria se non c'è il ricordo di Enrico Mattei col piffero che prendevamo dell'altro gas ma detto tutto questo continuiamo a invocare un'Europa che non esiste sul piano energetico in più noi continuiamo a ragionare del fatto che siamo in grado di resistere staccando il gas che non è vero non considerando due cose che se si stacca il gas lo stacca pure l'Ucraina sto gas e se l'Ucraina perde il gas russo non ha nessuna possibilità di ripresa economica ammesso che domani ci sia e in più perde anche le royalties di passaggio del gas russo che in questo momento la Russia continua a pagare a Zelensky il quale è andato al Fondo Monetario Internazionale e ha chiesto 7 miliardi al mese al Fondo Monetario Internazionale questo dà la dimensione del disastro economico Allora Ilaria Morani Carlo Cambi ha elencato tutta una serie di criticità le chiedo di concentrarsi anche perché dopo la pubblicità parleremo specificamente anche del tema energetico di quello che riguarda il debito noi sappiamo Draghi era stato molto restio all'idea di procedere a ulteriore indebitamento mi pare che tutti quanti i partiti della sua maggioranza forse anche in ragione dell'avvicinarsi alle elezioni invece chiedano di mettere mano al portafoglio con i tassi di interesse che crescono si rischia di dare un piccolo beneficio oggi che poi andremo a pagare carissimo domani soprattutto con le nuove generazioni Intanto l'ultimo intervento che è andato a favore di famiglie e imprese italiane non l'ha pagato il debito pubblico ma gli extra profitti delle aziende delle energie che stanno facendo soldi a palate con questi rincari per cui va dato atto e merito al Premier Draghi di aver applicato anche una forma di giustizia rispetto a chi in questo momento sta facendo speculazioni o soldi e chi invece ci sta rimettendo Ora i prossimi interventi che dovranno essere fatti anche in quel caso dovrà decidere il Premier come farli se ci saranno i margini per farli senza fare un ulteriore debito pubblico benvengano se serviranno però per aiutare gli italiani in questa fase di emergenza io credo che da parte di tutti ci sia un'assunzione di responsabilità rispetto invece a quello che diceva il dottor Cambi prima io credo che ci sia stata una frase nel lavoratore della feriera di Verona che dà il senso vero di quello che sta succedendo quando ha detto che a Mariupol non mollano questo significa che la resistenza ucraina non è solamente una resistenza che ha una finalità diciamo circoscritta all'Ucraina ma ha una finalità che riguarda tutto il mondo occidentale in particolare il mondo libero e democratico lì non mollano e non devono mollare anche per noi perché al di là del fatto che io non condivido quello che ha detto e cioè che stiamo accattonando in giro per il mondo del gas perché noi stiamo facendo contratti per renderci più autonomi rispetto al gas russo e sappiamo anche perché siamo così dipendenti dal gas russo ed è dovuto diciamo a scelte che sono state fatte in anni precedenti ed evviva il nostro governo che ha raddoppiato la fornitura allora però ve lo avevo detto di energia parliamo perché nel 2013 Enrico Letta ha raddoppiato la fornitura fermiamoci un momento ve lo avevo detto di energia parliamo tra poco anche perché dobbiamo ritornare all'Orogel uno degli stabilimenti più energivori nel campo del nostro agroalimentare settore che peraltro da questa guerra rischia di uscire con le ossa rotte dopo il break se tra i mazzi è stato un bagno di sangue siamo arrivati a un punto che gli animali non li possiamo far mangiare tutti e abbiamo dovuto decidere di mandare gli animali al macello prezzi alle stelle allevatori in crisi la guerra in Ucraina mette in ginocchio il settore del latte questo è oro non è mancino la razione che costa oggi è oro Baldassarre e Amedeo allevatori del casertano mandano avanti da anni la storica azienda di famiglia eppure oggi l'aumento dei prezzi dovuto alla guerra rischia di far sparire tutto questo per produrre un litro di latte ci voleva un menù che ci costava 0,43 euro oggi costa 0,53 e 90 questo vuol dire perdere soldi e la cosa più drammatica è stata mandare gli animali al macello noi con gli animali c'è un rapporto insolubile mandare 18 animali al macello perché non hai cosa di farli mangiare è una sconvitta per tutti ci spostiamo a Salerno dove essere in difficoltà è anche la produzione della mozzarella di bufala questa è la mozzarella di bufala campana l'oro bianco che teniamo che vorremmo continuare a produrre senza problemi è a rischio la produzione della mozzarella è a rischio la produzione perché noi possiamo aumentare i prezzi ma aumentando i prezzi diminuiamo i quantitativi sicuramente e quindi di conseguenza poi ci saranno pure a rischio dei posti di lavoro a pesare sui costi di produzione sono soprattutto le bollette di gas ed elettricità pagavamo dai 4 ai 6 mila stamattina c'è arrivata a 13.164 più che raddoppiato ma questo è solo l'inizio i problemi più grandi potrebbero nascere infatti tra qualche mese verso settembre l'ottobre ci troveremo con un 10-15-20% di derrate alimentari minore e quindi con un maggior costo di produzione per l'allevamento allora una bolletta che arriva a 13 mila euro lo abbiamo detto il settore agroalimentare rischia di essere duramente colpito da questa guerra ma dobbiamo aggiungere tre zeri per arrivare ai costi energetici di uno stabilimento così importante nel campo dei surgelati come Oroge la Cesena Simone Carusone sei accanto all'amministratore sì Francesco noi intanto ci siamo spostati al reparto confezionamento di questo colosso dei surgelati italiani che produce 15 mila tonnellate di cibo surgelato tutti i giorni parlavamo con l'amministratore delegato Giancarlo Foschi proprio della tempesta perfetta che si è abbattuta su un'azienda di questo settore quest'anno tra energia costi materie prime e adesso la guerra sì diciamo che la situazione era già molto pesante ovviamente prima dello stoppio del conflitto già dalla seconda metà dell'anno scorso siamo stati veramente travolti da un aumento indiscriminato di costi di tutte le materie prime dell'imballaggio del film del cartone dei trasporti della logistica e chi più ne ha più ne metta che ha messo ovviamente grande pressione su tutto il sistema lo scoppio del conflitto è stato un grande acceleratore di tutta questa dinamica ovviamente soprattutto sui costi energetici quindi gas e quindi energia ma è inciso anche particolarmente su alcuni prodotti che provengono da quei paesi per esempio l'olio di girasole che è triplicato come prezzo ai concimi che anch'essi sono triplicati mettendo in grandi difficoltà tutta la nostra base produttiva noi siamo una cooperativa e quindi il prodotto arriva dai nostri soci che si trovano anch'essi a scontare questi aumenti insostenibili come insostenibili l'aumento del corso di gasolio che anch'esso è raddoppiato sì ho una domanda per lei voi avete le spalle molto larghe però come giustamente diceva Simone Carusone qui siamo davanti a una tempesta perfetta perché non c'è solo il caro dell'energia ma c'è anche un problema specifico di materie prime che non arrivano più dalla Ucraina da quelle regioni c'è il rischio che si possa interrompere non dico fermare definitivamente ma interrompere la produzione o a rovescio un aumento incredibile dei prezzi al consumo ma guardi il discorso è questo sì effettivamente il problema il problema esiste perché parlavo dell'olio ma possiamo parlare anche dei pallet dicevo dei concimi ne arrivano pochi è molto difficile avere le forniture e a prezzi molto molto elevati rischi immediati di imminenti di interruzioni di produzione in questo momento non ne vediamo mentre invece è certo un impatto enorme su quelli che sono i costi che è evidente che in qualche parte dovremo trasferire al mercato quindi mantenere gli equilibri ho un'altra questione per lei questa è una buona notizia perché insomma almeno si continua a produrre si continuano a mantenere i posti di lavoro le dico due parole e voglio sapere la sua reazione embargo del gas ovviamente proveniente dalla Russia beh embargo del gas è evidente che è una di quelle evenienze che pensiamo veramente di poter scongiurare perché effettivamente se così fosse dovremmo fare i conti comunque con almeno una restrizione delle forniture di gas che metterebbe in difficoltà tutto il sistema produttivo nazionale e non solo ed è quindi evidente che anche questo oltre a poter incidere su alcune produzioni riprodurrebbe poi un ulteriore aumento di costi che già oggi sono insopportabili un'altra parola che le voglio sottoporre e voglio sentire il suo parere poi le chiedo di restare con noi che apriamo il dibattito con gli ospiti è razionamento cioè vale a dire una riduzione del consumo dell'energia elettrica come strategia per contenere anche le difficoltà di approvvigionamento delle fonti energetiche ma guardi io credo che tutto il nostro sistema si sia mosso già da anni per cercare di contenere al massimo i consumi energetici a casa nostra per aiutare comunque tutto il sistema oltre a contenere i costi è chiaro che se dovessimo arrivare ad un razionamento delle forniture di gas e di energia dovremmo vedere come poter ovviamente ottimizzare i nostri processi produttivi per andare in conto ad un'evenienza del genere che speriamo veramente di scongiurare perché capite anche voi quale può essere l'impatto è altrettanto evidente che rimanga un attimo il sistema produttivo è quello da presidiare è chiaro rimanga con noi il sistema produttivo è quello da presidiare prima di tutto allora rimanga con noi vado da Giuliano Cazzole spero che nessuno dei due si offenda se dico che provenite dalla stessa regione anche se uno è romagnolo e l'altro è emiliano Cazzola ha sentito l'embargo dei prodotti energetici in particolare del gas russo sarebbe una tragedia per loro eppure poco fa Legoletta è deluso dal dibattito su embargo energia in Unione Europea ancora una volta l'Europa su questo non riesce a parlare una voce univoca non riesce a parlare una voce univoca perché è un problema difficile un paese che ha il coltello alla gola da parte di un paese che è diventato nemico ovviamente si trova in grande difficoltà io non riderei dietro ai tentativi che si fanno di medio periodo o di diciamo di restauro parziale delle forniture di gas anche in prospettiva anche perché il gas ce lo potrebbe tagliare anche Putin non è che siamo noi solo quelli che hanno le mani sulla manovella detto questo io voglio dire all'amministratore delegato di questa fabbrica che mi complimento con lui io non lo conoscevo però uno che parla come parla è un galantuomo nel senso che riconosce che i problemi c'erano anche prima e diciamo i problemi sono peggiorati non tanto perché sono venute meno le forniture ma perché sono aumentati i costi e poi perché è una guerra una guerra mette tutti con le spalle al muro cioè nel senso che in una guerra uno pensa ad assumere pensa se è opportuno assumere pensa se è opportuno se è opportuno investire cioè si domanda si domanda cosa può succedere cioè è venuta meno la fiducia e quindi cioè con chi ce la pigliamo noi chiaro con chi ce la pigliamo c'è una guerra una guerra c'è Giuliano Cazzola fa bene il governo italiano ci doveva andare tra gli poi si è preso il Covid ad andare a cercare fonti di approvvigionamento diverso o come dice Carlo Cambi sta accattonando delle poche migliaia di metri cubi guardi allora io innanzitutto ho letto un'intervista del sindaco di Ravenna che dice che noi abbiamo da poter estrarre del gas ha parlato mi pare anche di 5 miliardi di metri cubi a Ravenna non li tiriamo fuori li tiriamo fuori perché abbiamo proibito l'escavazione del nostro gas cioè abbiamo ho letto il sindaco di un'intervista del sindaco di Piombino che aveva delle giuste preoccupazioni per il turismo diceva se qui viene un rigassificatore l'abbiamo collegato due giorni fa a Cazzola vice sindaco di Piombino allora in queste condizioni qui cioè io sono venuto qui allo studio e che pioveva mi sono bagnato con chi me la prendo se c'è una guerra dove raccolgono il 40% del grano del mondo con chi me la prendo con chi me la prendo Carlo Cambi c'è una guerra dove si raccoglie il 40% del grano del mondo chi bisogna prendersela Carlo Cambi e quindi e poi Carlo Cambi voglio ricordargli che il Parlamento italiano ha chiesto nella risoluzione del DEF ha chiesto di fare un altro scostamento di bilancio io sono d'accordo con il governo di farne il meno possibile di scostamenti di bilancio quindi sono d'accordo anche con te visto che ci conosciamo da 40 anni Cambi sì esatto io sai Giuliano mi rivolgo anche al tuo passato di sindacalista l'amministratore legato della Orocel ci spiegava che bisogna scaricare a un certo punto gli aumenti sul consumatore evidentemente ha ragione perché loro hanno fatto anche troppo fino adesso nel tentare di contenere l'impatto di questi prezzi ma ci sono 662 contratti di lavoro scaduti e ovviamente i sindacati quando si metteranno al tavolino chiederanno un adeguamento al salario guarda Carlo sono stati rinnovati dei contratti durante il covid durante il covid sono stati rinnovati dei contratti quindi immagino che si potranno rinnovare anche adesso vabbè scusami no perdonami Giuliano sono d'accordo con te no non sto dicendo che non vanno rinnovati io sto facendo un altro ragionamento dico che giustamente i lavoratori chiederanno un adeguamento dei salari all'inflazione galoppante tu sai meglio di me che se cominci a dare luogo alla spirale inflazione salari inflazione salari arriviamo poi a sbattere e quindi c'è questa componente che non viene tenuta in conto a nessuno sugli scostamenti di bilancio io sarei severissimo non vorrei nemmeno fare un centesimo di scostamento di bilancio ma quando tu dici con chi ce la pigliamo facciamo un pochino di storia 2011 Bersani schiera il PD sul no al nucleare 2013 Letta aumenta quasi del doppio la fornitura del gas dalla Russia 2020 il governo giallorosso blocca le trivelle Emiliano governatore della Puglia va in piazza con i 5 stelle e denuncia e vuole denunciare la società del TAP perché gli deturpava il paesaggio allora il ragionamento è che sulla energia in questo paese si è fatta un eccesso di demagogia avendo fatto un eccesso di demagogia oggi scrivo senza fonti tutte le tue parole dalla prima luce allora fermiamoci è stata chiamata in causa Alessia Morani intanto risponda a cambi dopodiché ha sentito cosa diceva Foschi l'embargo del gas russo sarebbe una sciagura però sull'embargo del gas russo si è schierato fermamente il PD è diletta tanto che oggi si lamenta del fatto che molti partner europei non lo seguono su questo Allora sull'eccesso di demagogia penso di poter dire che Cambi sta facendo un eccesso di demagogia perché riguardo il gas russo vorrei ricordare che la fornitura riguarda soprattutto non l'Italia ma un paese che sta al nostro nord che si chiama Germania e che ha applicato delle politiche energetiche negli anni nei confronti della Russia in collaborazione con l'allora Presidente del Consiglio e il grande amico di Putin Silvio Berlusconi che evidentemente non sono responsabilità del PD anzi il PD ha il merito di aver realizzato con il governo Renzi anche contro un proprio governatore cioè Emiliano il TAP se non era per il nostro governo il TAP non sarebbe stato fatto e le parlo da ex sottosegretario del ministero del sviluppo economico che un po' Emiliano era candidato alla segreteria del PD ho detto contro un nostro presidente di regione il nostro governo di Renzi ha realizzato il TAP ecco nel 2020 le Trivelle le avete bloccate o no? voglio no voglio no perché sempre durante il governo Renzi c'è stato qualcuno che ha organizzato un referendum contro le Trivelle vorrei ricordarvelo era il 2015 e noi non eravamo sicuramente quelli contro le Trivellazioni ma siamo stati fatti passare come l'anima nera dell'Italia come l'anima e vorrei ricordare che tutta la destra era per il sì alle Trivelle attenzione perché oggi fanno tutti gli smemorati ma io un po' di memoria in questo paese in questo paese ce l'ho io le dico che è il governo giallo-verde che ha bloccato le Trivelle e ha fatto una politica sul gas che ha fatto danni enormi glielo dico perché sono arrivata dopo in quel ministero ed essendomi occupata di energia ho provato a mettere un po' di top ai danni del governo precedente allora ci fermiamo Foschi resti con me perché andiamo in pubblicità e poi le voglio far rivolgere direttamente una domanda a Morani così riusciamo anche a riportare la discussione sul terreno della concretezza di cui Foschi ha dimostrato essere campione a tra poco Allora prima di tornare all'Oroge vi leggo due agenzie che sono davvero centrate sul dibattito che stiamo facendo Ignazio Visco governatore della Banca d'Italia prende una posizione molto netta su gli effetti economici della guerra gli scioccanti eventi in Ucraina stanno avendo enormi impatti negativi sull'economia mondiale che aveva appena iniziato a riprendersi dagli sconvolgimenti della pandemia ci vorrà del tempo per valutare il costo umano morale ed economico della guerra dai nostri vicini tedeschi dalla Bundesbank arrivano due dati preoccupanti una escalation della guerra quindi un suo prolungamento nel tempo nel 2022 avrebbe come effetto una contrazione del PIL tedesco al 2% e l'embargo russo costerebbe per Berlino 180 miliardi di euro torno a Cesena torno da Simone Carusone e dal suo ospite eccoci Foschi ha l'opportunità di fare una domanda rivolgere una richiesta del suo settore a chi nel nostro studio rappresenta la maggioranza che sostiene il governo è caduto? sì Roma ho la sensazione che Simone Carusone non ci senta ritorno alla Morani ha sentito per la Germania sarebbe una sciagura l'embargo del gas a questo punto anche il PD dovrà fare di necessità virtù ma allora intanto credo che a livello europeo le problematiche siano diverse è ovvio che qualora dovesse esserci una escalation ulteriore di questo conflitto la cui responsabilità è totalmente in capo ad un uomo che si chiama Vladimir Putin allora occorrerà prendere anche decisioni oltre ai 5 pacchetti di sanzioni che sono stati già presi che riguardano anche l'embargo del gas noi stiamo noi stiamo provando e stiamo riuscendo anche grazie ai nuovi contratti ad arginare l'impatto di un'eventuale sanzione che riguarda l'embargo del gas per il nostro paese ma non solo per il nostro paese ma anche per gli altri paesi e stiamo accelerando al massimo sulle rinnovabili tra l'altro stavo leggendo però i tempi sono molto più lunghi rispetto alle necessità immediate di una contrazione delle forniture del gas russo Morani Beh mi pare però che l'accelerazione che il governo italiano ha dato agli altri approvisionamenti sia proprio dovuta alla consapevolezza dell'urgenza e emergenza Allora la fermo così avrà modo di rispondere a Foschi che mi dicono è finalmente in grado di dialogare con noi Sì Francesco proprio con Foschi parlavamo di un certo ritardo secondo l'amministrato legato in alcune scelte che potrebbero aiutare le aziende Sì diciamo prima di tutto è chiaro che noi siamo fortemente concentrati oggi sui costi energetici ma volevo precisare che i costi energetici sull'aumento generale dei costi per un'azienda come la nostra incidono il 50% quindi stiamo parlando di un mondo ovviamente molto più complesso sotto questo punto di vista dall'altro è questo prima di tutto ovviamente dobbiamo fare di tutto per evitare il razionamento del gas per il presente e per il futuro è perché qui non dare un'accelerata per ritornare a destrarre quel gas che comunque in qualche parte noi abbiamo dall'altra sentiamo dire ripetutamente la necessità di fissare a livello europeo un tetto massimo al costo del gas e sentivo proprio questa mattina non so se è vera che si ritornerà a parlarne fra un mese ecco abbiamo un fattore tempo per noi che è fondamentale perché oggi pagare il gas a 5 volte tanto quello che si pagava prima di questa crisi è evidente che è assolutamente insostenibile per noi per le aziende e ovviamente poi questo impatta nel tempo anche su quello che sono i prezzi al consumo risposta telegrafica di Alessia Morani e poi un commento altrettanto telegrafico di Carlo Cambi Morani e dall'altra parte comunque un intervento però sta ancora parlando al dottor Foschi ma ho i tempi serratissimi e mi pare che certo immagina allora estrazioni ho la sensazione che non ci sente non è il ritorno dell'audio per cui abbassiamo Cesena e chiedo scusa a Foschi per questo Morani e poi Cambi purtroppo abbiamo anche dei tempi noi da rispettare estrazione del gas in Adriatico abbiamo già dato il via libera all'aumento delle estrazioni ricordiamoci però che noi attualmente abbiamo una scorta di circa 100 miliardi di metri cubi per cui l'aumento che abbiamo dato deve comunque tener conto di questo per nuove invece trevellazioni occorrerà fare una riflessione più approfondita anche perché non vengono domani insomma se si fanno anche delle nuove trevellazioni e le possibilità di estrarre il gas è chiaro rispetto sì rispetto invece al tetto del prezzo del gas condivido anche io con l'amministratore delegato Foschi che occorre farlo immediatamente immediatamente Carlo Cambi è una pia illusione sperare in una politica comune dell'energia a livello europeo? Assolutamente sì e te lo dimostra il dato tedesco voglio ricordare che dall'Algeria avremo tre miliardi di metri cubi di gas quest'anno in più che vuol dire il 10% di quello che ci dà la Russia e voglio ricordare che se si pianta la Germania che è il nostro primo cliente col quale abbiamo un intescambio più o meno di 100 miliardi per noi è notte fondissima quindi è perfettamente inutile seguire una strada nazionale al gas se gli altri partiti europei che hanno un'economia fortemente integrata con noi non fanno la stessa cosa vorrei capire e veramente finisco se ci si rende conto della emergenza economica nella sua totalità e mi chiedo perché non andare da Biden e dire vogliamo fare 50-50 sui costi di questa guerra questa potrebbe essere una buona idea anche perché i costi di questa guerra li paghiamo molto di più noi visto che ce l'abbiamo in casa di chi sta di là dall'oceano grazie grazie a Carlo Cambia a Alessia Morani e a Giuliano Cazzolla restate con noi perché dalle conseguenze della guerra sull'economia ritorniamo a parlare di guerra ma di una guerra molto speciale la guerra delle spie una guerra che c'era già da molto tempo tra poco eccoci di nuovo in diretta alle 13 trascorse da un paio di minuti Paolo Sottocorona pendiamo dalle tue labbra da darci delle buone notizie visto che il ponte del 25 aprile ha le porte bene buone notizie non lo so però per qualcuno sì come sempre ci sono sempre qualcuno che la prende buona allora la situazione attuale è abbastanza organizzata molto attiva molto instabile se guardiamo bene abbiamo una specie di cerchio di nuvole intorno all'Italia che disegnano un po' la bassa pressione che sta provocando questo maltempo qualche temporale nella zona interna prima questa mattina sul Tirreno adesso sulla sulle Marche insomma abbiamo molte cose allora vediamo in sintesi le piogge previste per la giornata di oggi complessivamente vedete che sulle zone del centro sul basso Tirreno e fra centro e nord sono non solo moderate ma localmente anche molto intense il giallo indica quantità molto forti più deboli sulle zone settentrionali e al sud domani sabato abbiamo un deciso miglioramento su gran parte del centro sud dove al sud il tempo resterà poi stabile ancora qualche pioggia in Toscana e poi vedete la nuova situazione che dà precipitazioni particolarmente abbondanti sull'arco alpino su quasi tutto l'arco alpino quello occidentale la Liguria l'alta Toscana domenica questa situazione resta in qualche modo intensa sul nord est migliora un po' sul nord ovest guardate quella macchia gialla mezza gialla e mezza rosa sul Friuli significa sicuramente precipitazioni abbondantissime come sulla Liguria di Levante e sull'alta Toscana sull'apennino settentrionale qualche pioggia anche al centro scendendo al sud molto meno e anche la giornata del 25 è vero che vede una certa attenuazione dei fenomeni al sud e al centro al nord ancora è molto incerta la situazione soprattutto sulle zone orientali quindi dove vedete quelle macchie gialle ricordatevi che ci vuole molta molta attenzione e molta prudenza Allora grazie a Paolo sotto corona saluto e ringrazio i nuovi ospiti che ci hanno raggiunto Massimiliano Coccia conduttore del Post Quarto Potere e giornalista dell'Espresso buongiorno Massimiliano ben ritrovato Aldo Giannuli docente storico grande esperto dei servizi segreti perché proprio di questo vogliamo parlare in quest'ultima parte di trasmissione la settimana è iniziata con un rifiorire di polemiche sulle guerre alle spie vi ricordate le polemiche che hanno coinvolto Conte tanto per il cosiddetto Italian Gate quanto per la controversa missione umanitaria dei russi in piena pandemia insomma la sensazione che la guerra di spie ci fosse già prima che la guerra iniziasse ad essere combattuta sul campo peraltro Koch ha scritto recentemente un articolo a tal proposito sull'Espresso e da qui vorrei partire con te Massimiliano poche settimane fa Di Maio decide di espellere 30 diplomatici russi considerati persone non gradite erano spie ma diciamo che innanzitutto l'iniziativa del ministro Di Maio è stata diciamo intrapresa di concerto con gli altri governi europei insomma ci sono stati parecchie espulsioni in queste settimane erano spie in verità soprattutto per quanto riguarda l'ambasciata russa su Roma che è quella appunto che conosco su cui ho scritto e su cui ho un po' scavato è una ambasciata con numerose e innumerevoli zone grigie non sappiamo bene esattamente quali siano i confini ovviamente dei ruoli attribuiti dall'ambasciatore Razov e non sappiamo bene quali fossero diciamo le mansioni che nell'arco degli ultimi cinque anni i diplomatici espulsi hanno svolto all'interno del suolo italiano prima che iniziasse questa guerra ci fu qualche mese fa era il maggio del 2021 un episodio che fece molto discutere su cui tu ti sei molto soffermato l'arresto di un capitano di fregata della marina militare Walter Biot che fu colto diciamo con le mani nel sacco passava per emissari russi informazioni riservatissime insomma lo spionaggio russo è riuscito ad entrare anche nel cuore dei nostri apparati dello Stato ma diciamo che il caso Biot è il caso che è stato isolato e di cui sappiamo da nostre fonti insomma abbiamo compreso che il numero complessivo dei casi bio è molto alto nel nostro paese non sappiamo ovviamente in che modo questo sia stato diciamo sia appunto quali documenti siano esattamente fuoriusciti però come dicevo esiste una forza di penetrazione dei servizi russi nel nostro paese forza che a mio avviso deve tener conto di due fattori il primo è una debolezza a mio avviso divisione della politica soprattutto italiana negli ultimi anni e i recenti accadimenti insomma anche l'articolo del collega Bonini su Repubblica ha un po' sottolineato questo cioè l'idea fondamentalmente che i servizi segreti siano in qualche modo una materia oscura e quindi bisogna accontentare un po' tutti cosa che ha fatto Giuseppe Conte quando era presidente del Consiglio da un lato parlava ovviamente con diplomatici e servizi russi dall'altro parlava con esponenti della CIA e del governo americano così come raccontare pubblica ovviamente questo è un dato di grande ignoranza il professor Giannulli è per tutti quanti noi una sorta di guru in questo e ci ha insegnato a vedere lo abbiamo invitato apposta Massimiliano come sistemi complessi ho un'altra questione per te che riguarda l'attualità poi con il professor Giannulli proviamo a fare un ragionamento di più ampio respiro le immagini che stiamo vedendo si riferiscono al marzo del 2020 l'Italia è in piena pandemia e il governo italiano decide di ricevere questo aiuto umanitario che poi scopriremo essere in realtà oneroso da parte della Russia un aiuto umanitario che però si compone in larga parte da personale militare anche quella deve essere configurata come una iniziativa se non di spionaggio di tentato spionaggio è stata un'iniziativa di tentato spionaggio anche se rivedendo un po' le immagini è anche un po' comico perché più che degli agenti segreti sembra una ditta di pulizie che va a sanificare degli ambienti però certamente diciamo la voglia di farsi una passeggiata a spese dei contribuenti italiani da parte dei funzionari russi di militari russi è stata sicuramente una tentazione e più che altro a mio avviso un elemento di cessione alla propaganda russa perché questo in patria ovviamente è stato rivenduto come appunto un aiuto strutturale è curioso Massimiliano che avessero voglia di fare una passeggiata in Italia in un periodo in cui nessuno poteva passeggiare se non nei ed intorni di casa propria e cane munito perché senza cane si veniva multati non avendo l'autocertificazione professore Giannulli lei che idea si è fatto di quella iniziativa mi sono fatto quest'idea i russi avevano in progetto il vaccino avevano bisogno di raccogliere dati sulla mappatura genetica che è stata dappertutto l'oggetto di raccolta informativa c'era anche il fatto di capire che cosa stavamo facendo noi non dimentichiamo una cosa che noi in quel momento eravamo il paese europeo più assaltato dalla pandemia quindi in qualche modo un test estremamente interessante la raccolta informativa in questo senso fa parte del gioco nello stesso tempo qualche aiuto lo portavano io credo che sia stato uno scambio abbastanza consapevole per cui noi sapevamo che insomma non era proprio del tutto gratuito disinteressato però è curioso professore il fatto che se fosse stata un'operazione mi passi il termine magari volgare di spionaggio scientifico di spionaggio medicale ok però mi aspetto che vengano in Italia i maggiori luminari dell'istituto di ricerca russo là era composto in gran parte da militari attenzione lei non ha visto nessun grande incontro meeting eccetera di scienziati epidemiologi eccetera perché questa pandemia è stata affrontata dall'inizio come una guerra in cui il virus era la lancia e il vaccino era lo scudo quindi in qualche modo ognuno ha lavorato per sé questo detto proprio chiaramente da questo punto di vista non è strano che non abbiano mandato scienziati ma abbiano mandato militari anche perché le loro strutture quelle sono perché lei chi pensa che sia il responsabile per esempio del laboratorio di Wuhan in Cina è una donna alto ufficiale dell'esercito quindi questo proprio perché appunto attenzione l'idea è che virus e vaccini sono certo professore un'altra questione per lei che ci porta ad uno sguardo più ampio le spie russe sono da sempre un pericolo per l'Italia forse dall'inizio della storia repubblicana per tutto il periodo della guerra fredda si immaginava che fosse botteghe oscure sede del partito comunista il terminale di quella rete che portava informazioni dall'Italia verso Mosca adesso il terminale è diventato la sede dell'ambasciata russa dunque intanto le spie russe in Italia sono state già dal periodo fascista quindi da prima della prima repubblica caso conforto eccetera sono cose che parlano chiaro la Russia ha sempre puntato all'Italia come paese fragile da infiltrare e da controllare anche perché siamo un paese immerso nel Mediterraneo al centro di 10.000 traffici e quindi sarebbe strano il contrario diciamo che però su questo c'è stata una disattenzione intendiamoci botteghe oscure non è mai stata la centrale d'ospionaggio e a un certo punto era un oggetto spiato dai russi non dimentichiamoci questo certo l'ambasciata è sempre stata il vero centro ma centro relativo perché in realtà esiste il centro visibile che è l'ambasciata dove tutte le ambasciate del mondo fanno questo vistiere però attenzione ai centri occulti e allora ce ne dica uno lei che conosce i segreti dei servizi segreti lei mi sta attribuendo una capacità di informazioni che non ho io non sono un uomo dei servizi sono uno che studia i servizi e peraltro i uomini dei servizi non so se lo sanno ho questa impressione perfetto no ecco questa è ancora più indipendente diciamo nelle sue ricerche beh certo e per esempio attenzione nel mondo della finanza ci sono personaggi molto interessanti chi rappresenta per esempio Primere il Banco di Vicenza eccetera in Russia è un personaggio che ha rapporti molto cordiali con il mondo allora professor Giannulli ci ha lanciato alcuni semi che vorremmo raccogliere vedere fiorire magari anche proprio con Massimiliano Coccia purtroppo però il nostro tempo a disposizione è finito per cui io vi ringrazio e vi rinvito presto in trasmissione per tornare a parlare di questa guerra delle spie andiamo in pubblicità restate con noi è davvero un piacere avere con noi adesso Carla Vittoria Maira vicepresidente della fondazione Atena Onlus e presidente di Antea Donna la giornata nazionale della salute della donna permetterà da qui fino al 26 di aprile di offrire occasioni di screening e momenti di sensibilizzazione proprio per la prevenzione e per la salute della donna buongiorno Maira la domanda di fondo è perché una giornata specificamente dedicata alla salute al femminile perché è sempre più importante oggi parlare di medicina di genere con l'istituzione di questa giornata abbiamo voluto proprio evidenziare questa importanza noi donne viviamo più a lungo degli uomini ma arriviamo più in cattiva salute perché siamo sempre prese da prenderci cura dei nostri figli siamo multitasking ma questo ci porta anche a avere poca cura di noi e questa giornata è nata appositamente per far sì che questo giorno ci concentrassimo sulla nostra salute perché quello che abbiamo capito è che con la nostra salute possiamo veramente dare il supporto necessario a quello che è la nostra famiglia e la nostra comunità da noi dipende tutto allora c'è la settima giornata della salute della donna che quest'anno si concretizza anche con una proposta ben specifica la creazione a Roma di un ospedale dedicato solo alle donne perché? allora questa è un'idea di progetto che sembra appunto essere un po' la sintesi di quelli che sono stati questi sette anni dedicati alla giornata nazionale della salute della donna che ha avuto sempre più grande successo e quindi si vuole evidenziare questa importanza perché noi donne fino ad oggi siamo state curate come gli uomini e quindi è giusto che invece per ciò che riguarda sia le malattie le patologie la risposta anche alle cure siamo diverse e quindi questo speriamo che si possa realizzare nel prossimo futuro allora grazie Carla Vittoria Maira un importante appello all'attenzione per la salute da parte delle donne e una particolare attenzione per la prevenzione soprattutto perché veniamo da due anni in cui per l'emergenza pandemica è stato molto difficile dedicarsi alla prevenzione delle malattie in bocca al lupo per la sua iniziativa il nostro tempo è finito linea telegiornale a lungo pomeriggio di informazione della 7 noi ci vediamo domani perché non ci fermiamo nemmeno il sabato edizione straordinaria sempre per stare sul filo delle notizie dalla guerra in Ucraina vi aspetto domani grazie a tutti